Buongiorno elettronauti, non so voi ma io sono rimasto veramente colpito dall'ultimo evento di Tesla, il Tesla AI, anche se è stato veramente complesso seguire Elon Musk nella sua presentazione. Quest'oggi vi riassumo in pochi minuti i progetti futuri dell'azienda. Mettetevi comodi, io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Elon Musk sale sul palco con circa un'ora di ritardo e subito ci scherza sopra dicendo che forse era il caso che i problemi li risolvesse la sua intelligenza artificiale e chiarisce immediatamente che l'evento ha lo scopo finale di fare recruiting, quindi a trovare personale per i progetti futuri dell'azienda. Quindi saltando i convenevoli Elon Musk invita sul palco il suo responsabile dell'intelligenza artificiale, Andrej Carpanty, che se non lo conoscete diciamo che è l'eccellenza nel mondo dell'intelligenza artificiale. Laureato a Stanford, è entrato a far parte del gruppo di intelligenza artificiale OpenAI come ricercatore nel settembre 2016 ed è diventato direttore dell'intelligenza artificiale di Tesla nel giugno 2017. Un piccolo genio quindi. Carpanty inizia il suo discorso introducendo la componente visiva dell'intelligenza artificiale di Tesla caratterizzata dalle otto telecamere utilizzate nei veicoli dell'azienda e cosa molto interessante considera l'intelligenza artificiale un essere biologico che in Tesla hanno costruito da zero, inclusa ovviamente la sua corteccia visiva sintetica. Quando questa corteccia visiva fu progettata fu fatto esattamente seguendo le dinamiche che trasformano le immagini nei dati che vengono inviati al cervello proprio come un organismo biologico. Carpanty poi mostra un video di come Tesla elaborava i suoi dati d'immagine in passato e afferma che, sebbene eccezionale, un tale sistema si è rivelato inadeguato. E questo è qualcosa che Tesla ha imparato quando ha lanciato Smart Summon. Sebbene il rilevamento degli oggetti fosse ottimo, lo spazio percepito attorno al veicolo non lo era. Tesla ha quindi ridisegnato completamente il suo autopilot dando profondità alle immagini che ogni telecamera percepisce e piano piano è riuscito a trasformare delle immagini in un ambiente completo virtuale. Ogni immagine viene analizzata nel suo complesso ma anche pixel per pixel e il sistema, oltre ad agire in base ad alcuni stimoli, deve anche necessariamente prevedere le mosse degli altri veicoli, persone, cose, presenti nel suo raggio visivo, anche a decine di metri di distanza. Autopilot è cambiato veramente tanto, ora non c'è più bisogno di seguire una mappa che qualcuno ha già disegnato, ma il sistema disegna la mappa in tempo reale. E a questo proposito sale sul palco il direttore del software Ashok Elsubwemi. Credo che si dica così, ecco. Inizia discutendo e mostrando in un video di come Autopilot, oltre a seguire le indicazioni stradali, debba tener conto appunto degli altri che ci sono sulla strada, prevedendo il loro comportamento e studiando ancora prima il che loro effettuino quella manovra. Quindi ragazzi, qui veramente capiamo quanto sia assurdo e pazzesco il cervello umano, che dopo un breve periodo la guida fa tutte queste cose praticamente senza che ce ne accorgiamo o mentre pensiamo a tutt'altro. Tesla punta effettivamente a ricreare il processo cognitivo biologico. Come vi ho già spiegato qualche video fa, esiste un team formato da persone che etichetta ogni cosa stramba che alla flotta di Tesla capita di incontrare. Quindi ad esempio ciclisti, semafori, castelli stradali, ma anche cose che normalmente non dovrebbero essere sulla strada, come sacchetti dello sporco, gommoni, eccetera. Etichettando ogni cosa particolare, l'intelligenza artificiale viene istruita di cosa può incontrare nel suo mondo virtuale. Appreso che questo sistema stesse diventando ormai ingestibile perché è troppo complesso e soggetto ad errori, il team di Autopilot ha programmato un sistema per farlo in automatico, trasformando oltretutto le immagini elaborate da 2D a 4D. Ciò ha effettivamente consentito a Tesla di etichettare i dati molto più velocemente, consentendo al contempo ai veicoli di navigare in modo sicuro e accurato anche in presenza di ostacoli. Questa strategia ha aiutato Tesla definitivamente a rimuovere dall'equazione il radar, lanciando così il discorso delle simulazioni, affermando infatti che Tesla effettua miliardi di simulazioni con il fine di istruire l'intelligenza artificiale per aiutare ogni auto Tesla che troviamo in strada oggi. E a tal proposito prende la parola sul palco Milan Kovac, direttore della parte di ingegnerizzazione dell'Autopilot, che ci parla delle reti neurali e di Dojo, un super computer capace di analizzare tutti questi dati in tempo reale. Kovac invita poi sul panco anche Ganesh Vekantaraman, il responsabile del progetto Dojo. Riflete sul fatto che per avere migliori performance, per istruire l'intelligenza artificiale e per avere reti neurali più grandi, più veloci e più complesse, c'è bisogno di un nuovo processore. Questo nuovo processore oltretutto dovrà migliorare anche il consumo elettrico, ed è così che nasce Dojo, un computer con architettura distribuita di tanti piccoli processori logici, con un grande flusso di dati e bassissima latenza. Questi processori ovviamente sono stati sviluppati da Tesla da zero, ed ognuno di questi è a 64 bit, a 1,5 MB di SRAM, per un totale di più di un teraflop. Ok, ma questo è solo un processore. Il computer che Tesla ha creato ha 354 processori di questo tipo, che lavorano contemporaneamente e producono un massimo di 362 teraflop, con una capacità di trasmissione pari a 4 TB al secondo. Non contenta, Tesla ha preso 500.000 di questi processori e li ha collegati tutti per un totale di 9 petaflop di potenza di calcolo e 36 TB al secondo di trasferimento dati. Poi ha preso il tutto e l'ha moltiplicato varie volte, per poi buttarlo in un armadio chiamato Exapod, che ha 1,1 exaflop di potenza di carico. A molti di voi questi numeri saranno sconosciuti e tanta informazione che vi darò oggi rimarranno lì nel limbo del vostro cervello, ma sappiate signori che Tesla sta facendo la storia e non solo nel campo automotive. E la cosa che fa più spavento è che Dojo è così oggi, non è ancora completo, continuerà ad ingrandirsi e la sua capacità di calcolo moltiplicherà esponenzialmente. Tutto questo non si sa quanto possa essere donato alla community sotto forma di open source, dato che sviluppare tutto questo ha dei costi decisamente importanti, ma Tesla ha dichiarato che Autopilot potrebbe un domani essere venduto sotto licenza ad altri carmaker. E dallo sgomento generale di tutti i nerd presenti alla conferenza, ritorna sul palco Elon Musk a parlarci del suo personalissimo One More Thing. Un robot, sì esatto, un robot. Sarà altro 1,77 m e peserà 58 kg, includerà uno schermo frontale posto sul viso per visualizzare informazioni utili. Inoltre, come vedete, è assomiglianza umana, il che è pazzesco. Immaginate la complessità di muovere una mano umana. Ma Musk ha già pensato a tutto. Le estremità opereranno utilizzando 40 attuatori elettromeccanici, avrà sensori di feedback di forza e riuscirà ovviamente a tenersi in pieno equilibrio e sarà oltretutto molto agile. Si parla già di velocità massima di 8 km orari. Il bot Tesla utilizzerà ovviamente alcuni dei dispositivi di intelligenza artificiale dell'azienda che sono operativi già oggi sui veicoli Tesla. Le telecamere del pilota automatico fungeranno essenzialmente da visione per il Tesla Bot, mentre un computer full-sert driving funzionerà come organi interni del robot, aiutandolo a funzionare come un membro produttivo della famiglia. Utilizzerà reti neurali, video multicamera, identici a quanto dettagliato durante l'evelto. Inoltre, la pianificazione, l'etichettatura, la simulazione e gli strumenti della rete neurale verranno utilizzati anche per aiutare il Tesla Bot a operare in modo efficace ed efficiente nel mondo reale, mentre esegue con precisione qualche attività. Elon Musk poi ha affermato che questo robot può fare diversi lavori noiosi, pericolosi e ripetitivi che le persone oggi non vogliono fare. Potrebbe diventare anche un amico. Sono sicuro che la gente penserà ad alcuni usi molto creativi. Tipo? Il bot Tesla non sarà disponibile fino al prossimo anno, ha detto Musk, soprattutto perché il robot utilizzerà i meccanismi di addestramento del supercomputer Dojo per migliorare le funzionalità. Sembra che l'idea di Tesla per il robot sia quella di ridurre la necessità di eseguire compiti da soli. Non ci sarà una mancanza di mano d'opera, ha detto Musk pensando al futuro, ma il lavoro fisico sarà semplicemente una scelta. Lo scopo del bot di Tesla potrebbe eliminare la necessità di svolgere compiti minimi e senza cervello in casa. Per il bot Tesla la vita inizierà con un lavoro noioso e ripetitivo, fondamentalmente il lavoro che una persona non vorrebbe mai fare. Musk in passato è stato veramente molto critico parlando di intelligenza artificiale. In un episodio del podcast di Joe Rogan, Musk infatti ha avvertito che l'intelligenza artificiale, se sovrasviluppata, potrebbe diventare sempre più pericolosa, perché la sua mente e la sua memoria sono terribilmente potenti. Ma oggi ha affermato, se non lo facciamo noi, qualcun altro lo farebbe, quindi immagino che è meglio che siamo noi a lavorarci e soprattutto a renderlo sicuro. Beh, che dire ragazzi, ci attendono tempi bui? Ma ancora non lo sappiamo, sicuramente si prospetta un salto in avanti per la comprensione del cervello umano, delle reti neurali e l'intelligenza artificiale potrebbe diventare una cosa normale veramente molto presto. Il video di oggi termina qui, grazie per avermi seguito fino alla fine. Mi raccomando, se vi piace il lavoro che sto facendo per la comunità elettrica, mettete like a questo video e condividetelo con i vostri amici e fatemi sentire che ci siete iscrivendovi al canale, accendendo la campanellina e lasciando un commento qui sotto. A presto elettronauti!